Caro libro, vendi di più ma vieni letto di meno. Perché sì, i lettori forti, quelli da 10 e più volumi all'anno, leggono ancora di più, invece quelli deboli ti lasciano, perdendosi nelle paludatissime immagini delle serie tv che ti stanno spodestando. Eppure a Torino le note sono anche liete e positive, le vendite crescono e per fine anno andranno in doppia cifra percentuale rispetto al 2010. E poi le librerie, sì, quelle fisiche, sorpassano quelle online. Quindi? Oggi abbiamo dato i dati del mercato che ci dimostrano quanto il libro si è in salute, quanto l'editoria resti e si consolidui come la più grande industria culturale del paese e tra tutti vorrei anche segnalare il fatto che le librerie tornano ad essere il canale attraverso il quale si comprano il numero maggiore di libri. Sono tutti dati confortanti. Qui finalmente è ritornato un po' il contatto fisico anche, non solo con l'oggetto libro ma anche con chi lo scrive. Beh guardi qua, si allarga al cuore in questi giorni di Torino a vedere tanta gente, tanti bambini in mezzo ai libri. Davvero è un segno per tutta l'Italia di grande fiducia nel futuro. Noi abbiamo addirittura avuto il coraggio di provare a quantificare il regalo che Babbo Natale ci potrà portare. Stiamo immaginando che il libro possa crescere addirittura forse del 15-16%. Sono dati importanti per il libro ma per tutta l'Italia. Più 30% di casi in Italia per colpa della pandemia è seconda causa di morte fra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali. I disturbi alimentari uccidono 3.800 persone ogni anno e devastano le famiglie. Il peso dell'amore è un libro di istruzioni per mamma e papà che non sanno come rapportarsi a un figlio che si ammala di anoressia o bulimia. Questo libro l'ho scritto, l'ho interamente dedicato ai genitori parlando da genitore perché secondo me questo è un tema che va condiviso con le famiglie. Perché le famiglie per prima hanno bisogno di capire bene la sofferenza dei loro figli e solo attraverso questa comprensione si può costruire un percorso di cura valido. E non è detto che un disturbo alimentare allontani i genitori e i figli. Esso infatti può diventare una grande occasione di legame, fondamentale l'uso delle parole e il dialogo. Noi genitori dobbiamo imparare ad avere quella sensibilità giusta sulle parole che utilizziamo perché non possiamo sapere l'effetto che queste parole avranno sui nostri figli. Dobbiamo iniziare ad allenare un linguaggio nuovo perché attraverso un linguaggio nuovo noi riusciamo a capire il disagio delle adolescenti. Un aiuto alla comprensione della malattia nel libro viene dato dalle storie di chi si è ammalato ed è guarito. Perché è importante dare questo messaggio. Le disturbi alimentari si guarisce e si guarisce totalmente. Le storie sono le cose che insegnano di più. Io ho imparato tantissimo in questi anni dalle storie delle ragazze che ho avuto il piacere di sostenere. Io ho pensato che era un gesto, come dire, d'amore appunto condividere queste storie con le persone che volevano leggere questo libro perché tutti quanti insieme possiamo imparare dall'esperienza in prima persona che questi ragazzi vivono.